Salve a tutti, oggi siamo qui, guardiamo la tolettatura di un broker in maniera commerciale. Osso veloci, prima partiamo senza stare a fare troppe finiture, ok. Osso velo esterno, ci teniamo due dita sopra, tenetevi una quantità giusta e non segnate il piede giusto per fare il piede a gatto. Puliamo bene queste due pieghette, non ci devono essere sbavature, lavori in commerciale, quindi la macchinetta, il rotaio, la stampa, la caglia,